contenuto confezione monitor, monitor, disgancio, tenacca o vi installavo a base questo qua è per appoggiatesta, questa qua è la basetta, regolabile, sabbia adesiva, telecomando e alimentatore da casa questo kit da retromarcia che va bene per i trailer cavalli, camper, furgoni questa telecamera qua, adesso possiamo restare con questa telecamera qua, il mordo da 7 pollici e via capo abbiamo messo un cavallo a 10 metri con questi adattatori qua, il kit va benissimo, cioè funzionalmente lo stesso se si utilizza questa telecamera qua o se si utilizza una cosa del genere, questa oppure questa qua, quest'altra e questa qua che c'è anche un buzzer per segnalazione di ostacoli, sonori, è tutto uguale, ci riferiamo per il momento a questa qua, come si fa il montaggio, cavo, andiamo a mettere giallo e giallo ingresso, poi ci abbiamo alimentatore di casa in dotazione e andiamo ad alimentare direttamente il monitor da quest'altro la adesso vogliamo alimentare la telecamera, abbiamo preso un alimentatore da casa, anche se nel kit installato da un veicolo non servirà intanto proviamolo sul banco, quindi ci mettiamo l'alimentatore e la colleghiamo alla telecamera ecco qua, questo è quello che otterremo, l'immagine è già online quando andrei da installare questo su un veicolo questo alimentatore qua non ci sarà, perché non vi servirà e in dotazione forniamo questo, questo si collega qui si mettono qua due fili, rosso e nero, più e meno e poi questi qua vanno collegati alla luce della targa così, semplicemente stesso discorso per il monitor l'alimentatore c'è in dotazione, ma noi vi inviamo anche questo qua questo qua, questo va inserito nell'alimentazione, due fili e va collegato in cabina, nell'abitacolo nei pressi dell'accendisigari, della luce di cortesia, insomma va collegato all'impianto elettrico del veicolo a 12 volts tutto qua, molto semplice, come vi abbiamo detto già prima, sostituendo questa telecamera questo kit con una di queste, con quest'altra eccetera eccetera il funzionamento insomma è proprio lo stesso grazie per la visione grazie 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 grazie